Ciao e bentornati sul canale, oggi abbiamo la seconda uscita di Zio Paperone, il deposito, il deposito con Topolino arriva il deposito di Zio Paperone, la seconda uscita è con l'albo Zio Paperone la terza sarà di nuovo con Topolino, poi Topolino di nuovo, poi Paperino, poi Topolino e chiudiamo con quelle, qui sono le uscite, le potete vedere, ma adesso apriamo di vederle purtroppo ci sono rimasto un pochettino male, perché pensavo ci fosse un bel pezzo grande del deposito, vai, aspetta che mettiamo a fuoco io so che ce la puoi fare, con calma spacco tutto, ma che spacchi tutto, allora la faccio vedere io la macchina, guarda, eccola qui, non ha niente, ah ecco perché c'è il buco sotto il piede, vai, incastra, ma lì credo che ci vada l'autista, no? spero che non ci sta, infatti perché non ci sta e allora lì ci va l'autista, e non si guida proprio bene così la macchina però qui ci va l'autista, che è lui yes, e infatti le vedi quindi la seconda uscita, che è questa qui, è Zio Paperone con la limusine, in effetti ce l'ha anche scritto poi, mercoledì, quindi tra due giorni, abbiamo primo piano con Battista quello dell'oro poi secondo piano poi su Paperino ci saranno i tre bassotti poi alla fine il cannone diciamo che se uno vuole completare solo ed esclusivamente il deposito potrebbe anche evitare le due uscite di Zio Paperone e Paperino ma andiamo a recuperare ciò che avevamo già visto per farvi vederti e intanto Zio Paperone lo mettiamo qua e la macchina entra togli la mano nel box di qua eccola qua e questa è la sistemazione ah, questo è il box? sì, credo poi nella parte finale vediamo se intanto vediamo anche com'è questo albo di Zio Paperone è praticamente un albo dedicato solo alle storie di Zio Paperone molto semplicemente alcune più vecchie, alcune meno vecchie qua, vediamo di nuovo il deposito che sono molto curioso un paio di giorni e vediamo secondo piano non lo dice, comunque è fighissimo perché tu ti metti qua vabbè non l'incastro vallo tranquillo se ne vai visto che ci siamo rifacciamolo vedere velocemente quindi abbiamo povero Zio Paperone si è quasi ammazzato l'hai quasi ammazzato abbiamo qui l'oro e qui diamanti smeraldi pietre preziosi argento oro in lingotti e qui se qualcuno entra viene respinto entro io aspetta che così lo facciamo vedere se no non si vede adesso entro io però in realtà questo non dovrebbe esserci Zio Paperone dovrebbero esserci i ladri si vai e così bene buttato fuori per terra il ladro che entra per rubare nel deposito il Zio Paperone questo sarà il perno che tiene uniti i tre piani infatti mi pareva strane sei uscite andiamo andiamo quindi adesso pubblichiamo subito e ringraziamo le persone che ci hanno scritto per sapere quando usciva il video della seconda parte il video è questo grazie ancora mettete un like condividete commentate aspetta è simbolo del dollaro certo ovunque e e come sempre noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao ciao